Il combattimento è stato vinto da Benvenuti, un'altra medaglia d'oro. Pugni, sudore, poi oro e Nino Benvenuti entra nella storia. La medaglia di Roma 60 è tra i cimeli del primo museo nazionale del pugilato. I grandi nomi della box di ieri e di oggi taglieranno il nastro stasera ad Assisi. Io credo che proprio dobbiamo credere che il valore dei campioni di oggi non sia minore di quello di ieri. L'ultimo oro della box italiana è di Pechino 2008, conquistato da Roberto Cammarelle. Ho affrontato serenamente le Olimpiadi, sapendo di essere il numero uno e volendolo dimostrare. Con la mia presenza io metto il timbro al mio sogno e dico ce l'ho fatta. Io volevo essere uno dei grandi e se entro nel museo del pugilato vuol dire che sono stato uno dei grandi. Alle pareti i ritratti dei campioni di un passato che non passa, da Primo Carnera a Giovanni Parisi e poi opere d'arte sulla box, i francoboli di Muhammad Ali, i trofei scintillanti nelle vetrine. Oltre a libri, guantoni, medaglie, in mostra anche un ring utilizzato alle Olimpiadi di Roma del 1960. L'idea di un museo che raccontasse cent'anni di storia del pugilato venne a Mario Pescante, ex presidente del CONI. La scelta di Assisi non è casuale, come spiega il direttore del museo, Franco Falcinelli. Io mi impegnai per Assisi anche perché ritenevo questa collocazione veramente la più congeniale in quanto anche interattiva con quello che è al piano terra, cioè il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica. L'emozione delle Olimpiadi rivive nei ricordi di Maurizio Stecca, oro a Los Angeles, nel 1984. I due miei maestri mi dicevano hai vinto, hai vinto, hai vinto. Io ho detto no, non ho vinto, non ho vinto. Ci scommetti i guantoni. In quel momento lì mi diedero la vittoria e intanto la medaglia me la sono tenuta io. Ma ho dovuto dare i guantoni della finale ai due miei maestri. Le stelle della box italiana si incontreranno stasera all'inaugurazione e chissà che non decidano di risalire su quel ring per scaldare ancora i pugni.